Bentornati sul mio canale, oggi vorrei parlarvi dell'importanza che ognuno di noi dà al proprio tempo. Che cos'è il tempo se non una fugace parentesi tra ciò che siamo, ciò che vogliamo diventare? Io ritengo che il tempo sia veramente la risorsa più preziosa di cui disponiamo e pertanto quando le persone mi chiedono ma che cosa ne pensi? Cosa pensi che sia importante nella vita? Io rispondo sempre il tempo perché è il tempo che indica ciò che siamo realmente disposti a fare per noi stessi e per gli altri e voi quale ritenete sia la risorsa maggiore di cui disponete? Fatemelo sapere tramite un commento, un like e un'iscrizione al canale perché come vedete pubblico di frequente nuovi contenuti.